John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel punto settimanale su X-Factor, quello che faccio sempre, è stato ufficialmente eliminato Emanuele Bertelli, Bertelli, no beh, Bertelli è stato eliminato ragazzi, è il terzo concorrente a uscire ai live, dopo le varie eliminazioni che abbiamo visto nelle settimane scorse, appunto i concorrenti rimangono solamente in nove. Allora, detto questo andiamo subito ad analizzare la prima Munch, vi ricordo che io non sono un esperto di musica, semplicemente mi piace parlare e insomma la gente che mi sente decide se vuole dire la propria, insomma è una cosa abbastanza libera, quindi fate voi. Allora, per quanto riguarda la prima Munch, secondo me è stata un po' squilibrata, perché dico la verità, la prima ho visto secondo me cantanti che possono arrivare fino in fondo, al di là di Bertelli, perché Naomi, Boland, Luna Melis, Cheryl, sono tutti cantanti, secondo me sono tra i migliori. Mentre nella seconda, oltre a Anastasio, forse ho visto un livello un pochino più basso, magari è stata una mia semplice sensazione, non lo so, insomma ovviamente il mondo è fatto di sensazioni. Parte Naomi che canta a Rita Franklin, mi piaceva tanto tanto tanto, hanno fra l'altro architettato una scenografia tale da valere da sole il prezzo del biglietto, poi ragazzi lei è bravissima, ha una bella voce, secondo me era anche abbastanza palese il fatto che anche questa volta Naomi andasse al turno successivo. Tra le altre cose è un'artista, secondo me, abbastanza completa e quindi insomma io penso e spero a dire la verità che sarà tra le finaliste, ci saranno quattro finalisti, penso che lei sarà una di queste. Un altro probabile finalista in realtà sono tanti perché è un gruppo, sono i Boland, i Boland che si sono espressi per secondi, hanno cantato per secondi e sinceramente mi sono rimasto diciamo contento, sono rimasto contento in modo positivo, positivamente sorpreso diciamo perché hanno cantato in italiano, hanno cantato senza un perché e mi è piaciuta tanto tanto tanto, addirittura mi è piaciuta, la canzone l'hanno fatto mi è piaciuta più di quella di Naomi che a me sapete fa impazzire Naomi, perché sono stati molto bravi ragazzi, fra l'altro lui suonava un bicchiere, cioè io penso se lui avesse questo spruzzino come avete vedere che spruzza acqua, non so ho fatto il bagno, saprebbe suonare anche questo spruzzino, suona tu un bicchiere, cioè se fossi stato il bambino di Up vedendolo avrei detto ma suona un bicchiere, cioè pazzesco ragazzi, lei canta benissimo, veramente benissimo, loro in accompagnamento sono veramente ottimi, quindi sono contento che siano andati avanti, andiamo avanti, andiamo a Luna Melis, gli hanno dato l'ana del rei, quindi insomma pure un po' stronzi a dire la verità perché l'ana del rei non è che possono cantarla tutti, però è forte, lei è forte, meno degli altri due, meno di Naomi e meno dei Boland, o almeno questo ha dimostrato di essere nella puntata odierna, però è forte, io ribadisco, se non ho detto anche se ti è una scorsa, se non mi sbagliano a togliergli quel pezzo rap, perché secondo me lei sfonda, lei prende tanto su quel pezzo, se tu glielo togli qualcosina gli levi, a me sinceramente un pochino dispiace, Bertelli vi fa congratulation di post malone, malonna, guarda io ti dico la verità, a me non dispiace in realtà la voce, lui è andato a casa tra le altre cose, è stato eliminato, però lo sento abbastanza vuoto, cioè mi risulta piuttosto sufficiente, ha una voce, ribadisco di Cristo, ha una voce che in pochi hanno, però è la situazione che poi ha detto Fedez, anche se poi lo ha salvato, e poi è uscito ugualmente, non è a fuoco il suo percorso, cioè io ogni cosa che fa lui dico sempre che non è la sua, che non è la sua, che lui è bravo ma non è la sua, e non riesco a capire cosa sia la sua, cioè nel senso anche questa cosa di voler unire il soul, il trap e creare il soul trap, che ci sta, perché poi è una bella idea secondo me, è un pochino ancora fresca come cosa, cioè nel senso deve lavorarci ancora tanto, e secondo me era troppo inferiore agli altri, ma lo sapeva anche lui, poi c'è addirittura quando hanno deciso quale fosse il primo artista ad andare al rischio tra i primi cinque, lui era certo di essere lui stesso, cioè anche perché ragazzi il livello era troppo, diciamo, c'era un dislivello troppo ampio, l'ultima che ha cantato nella Manish 1 è stata Cheryl, Cheryl che canta Mina, quindi canta anche in italiano, sono contento che abbia cantato in italiano, ma non perché poi debba cantare sempre in italiano, però volevo sentirla, volevo almeno provare a sentirla, e l'abbiamo sentito, allora, tra l'altro se prima della puntata avevo detto a Viola, con cui guardo sempre la puntata di X Factor, ma questa non la faranno mai cantare in italiano, effettivamente poi ha cantato, non è potente come è potente invece quando canta in inglese, però secondo me o sperimenti adesso o non sperimenti in più, io lo dico sempre, se vuoi sperimentare puoi farlo, certo è che quando poi lei deve cantare qualcosa di basso, qualcosa di medio, risulta un pochino piatta, perché è molto brava negli alti, quindi insomma devi essere molto attento a dargli il pezzo, l'italiano secondo me non fa troppo per lei, dico la verità, poi non ha sfigurato secondo me, perché comunque io vi dico la verità, io poi ho fatto una sorta di classifica mia per vedere chi avrebbe mandato al ballottaggio, e appunto ho messo i Boland primi, Naomi seconda, Cheryl terza, Luna Melis quarta e Bertelli quinto, quindi insomma ci sta, Cheryl è bravissima, è bravissima, però forse con l'italiano un pochino si penalizza. Seconda manche, il primo a cantare è stato Leo Gasman, Leo Gasman più che sufficiente, bella voce, forse mi è sembrato un pochino troppo forzato, diciamo che secondo me è meno potente rispetto ad altri, e ho paura che quando poi si arriverà ad un livello parecchio alto, in cui magari rimarranno Anastasio, magari Leo Gasman, magari rimarrà i Boland, magari rimarrà Naomi, magari rimarrà Cheryl, probabilmente il livello sarà così alto che lui sarà penalizzato, perché ancora non riesco, cioè c'è tanto da migliorare, non riesco a capire quando lui, l'avevo detto anche settimana scorsa, e lo confermo questa volta, che comunque è stato molto bravo, non riesco a capire quando lui farà il salto di qualità, che gli manca a mio modo di vedere. Mi hanno delusi se è preso Casino Palace, anche se secondo me non sono stati i peggiori della manche, però insomma siamo lì, diciamo, alla fine è stata una manche molto noiosa, al di là poi di Anastasio, di cui adesso parleremo, c'è stato veramente uno spazio gigante, ma Anastasio qui e tutti gli altri erano più o meno su questo livello. I sales sono la solita storia, ragazzi, buonissimo, diciamo buonissimo il tono di voce, il timbro di voce di lei, non mi ricordo adesso come si chiama, tra le altre cose, della ragazza, tanta grinta, bene anche il fatto della scenografia, di tenere tutto molto in alto, la voce dall'iente è bella, ma sono i discorsi che facciamo sempre, però a parer mio stanno un pochino annoiando, cioè non riescono più ad uscire da quella bolla che si sono creati ed è vero innanzitutto che le parole spesso non si sentono, non riesco a sentire le parole e poi più che altro, vi dico la verità, io dopo averli risentiti oggi spero di starmi a sbagliarmi, spero di sbagliarmi in realtà, però vi dirò la verità, forse addirittura mi sono un pochino pentito di aver visto eliminati i Red Bricks, perché non lo so, cioè nel senso davano qualcosa di particolare che ho paura che i Seveso non possano dare, ovviamente spero con tutto me stesso di sbagliarmi, però li ho visti abbastanza piatti, cioè dalla loro prima esibizione che è stata appunto quella di Ricchi per sempre che poi l'hanno rifatta per salvarsi ieri, al di là di questo, dalla prima esibizione non sono mai migliorato, è stata la loro top esibizione e quindi ho paura di non vederli mai scavalcare, non lo so, vediamo, io poi ho cantato Renza con Mi sono innamorato di te, vabbè io vi dico io avrei mandato al ballottaggio Renza ma perché è una mia impressione, tipo ho visto che sia con Viola ma con anche molti altri ragazzi non siamo d'accordo, semplicemente Renza ha una voce che o ti fa, io la penso così, o ti fa provare qualcosa oppure non ti può piacere, perché non è una voce potente, non è una scatenata, è una che ha una voce delicata, che ci sta perché assolutamente, però quella voce delicata ti deve far provare qualcosa, a Viola fa provare qualcosa, a me non fa provare niente, io non ci trovo niente purtroppo e mi dispiace, non mi emoziona, mi impegno ma non mi emoziona, lei ha una bella voce, ce ne sono tante di ragazze o di ragazzi con una gran bella voce, non trovo niente sinceramente, mi auguro che riesca a far provare qualcosa anche a me almeno potrò dire cazzo, avevano ragione a mandarla avanti perché non riesco a capire proprio dove si trova quel qualcosa. Come penultima artista si è espressa Martina Attili, ha cantato Martina Attili, ha fatto Madonna, fra l'altro mentre pattinava, quindi insomma, bella scenografia, bella tutto, diciamo che secondo me le due a rischio della seconda manche erano Renza e Martina Attili, che fra l'altro mi piace tanto, al pubblico anche piace tanto, forse l'hanno un pochino rovinata con la scenografia, cioè nel senso, allora, la scenografia era perfetta perché comunque tanta roba, lei sui pattini, ha reso molto, però il fatto di dover pattinare mentre cantava l'ha penalizzata a mio modo di vedere, molto spesso è parza debole dinanzi a Madonna e quindi insomma, secondo me questa cosa l'ha un pochino penalizzata, ovviamente anche qualora fosse andata Martina Attili al ballottaggio gli avrei eliminato come vuoi è stato effettivamente Bertelli, però forse il ballottaggio non dico che se lo sarebbe meritato, però ci poteva stare, ultimo a cantare è stato Anastasio con il mio fratello e figlio unico e credo che Anastasio anche questa volta sia stato il migliore della puntata ragazzi, io amo tantissimo questa canzone, amo tantissimo Rino Gaetano, quindi avevo una paura fottuta che qualcuno lo rovinasse, in realtà non è così, non è così, lui è fortissimo, mi è piaciuto tantissimo, è bravissimo lui ragazzi è un cantante già fatto, lo ha detto anche se non è Rofedez, lui è un cantante già fatto praticamente lui si è appoggiato su Rino Gaetano, ha scritto su Rino Gaetano ed è riuscito a reggere il colpo e questa praticamente ragazzi è la dimostrazione di come lui possa tranquillamente arrivare fino in fondo per me è da finale, io dico che per me ad oggi i finalisti saranno Anastasio, Naomi, i Boland e forse Cheryl però su quest'ultima voglio vedere un attimo come si evolve la situazione perché ci sono un paio di situazioni intriganti che mi interessano, quindi questo quarto posto lo lascio un attimo vuoto e preferisco dirvelo successivamente detto questo fammi sapere invece tu che ne pensi con un commento qua sotto, secondo ti è giusto all'eliminazione di Emanuele Bertelli perché sì e perché no, iscriviti al canale, lascia un mi piace se vuoi altri video settimana prossima sempre per quanto riguarda X Factor, grazie per aver visto questo video, ti ricordo come sempre no basta ragazzi, non mi ricordo niente, buon shalom come sempre, ci vediamo ad un prossimo video